I gnoti malviventi hanno rubato 10 km di cavo della rete elettrica, un gesto che rischia di lasciare a secco i rubinetti delle case dell'intera comunità di Palazzola Creide. Il sindaco Salvatore Gallo parla di delinquenti in guerra contro il comune. La scorsa notte la linea elettrica che alimenta i due principali pozzi d'acqua, Pozzo Costa e Pozzo Cava del Signore, è stata a bersaglio dei soliti ladri gnoti. Al momento si sta garantendo l'erogazione dell'acqua con due gruppi elettrogini. Si raccomanda un utilizzo d'acqua a soli fini di necessità. Mobilitata la protezione civile, l'Enel sta facendo di tutto per ripristinare il tiraggio dell'acqua dai pozzi.